Ciao ragazzi, buonasera Allora, buonasera Ryu Per via, ok, del significato giapponese Dragone, ok Bravo, molto carino, molto interessante Buonasera Remigio Simo Shooter Ancora lavoro, ma almeno ti ascolto Oh, ok, mi si come poter Gasta un onore Ozzy, buonasera Anche a lei, signor Ozzy Ozzy, a fianco All'abbonamento C'ha Ci ho fatto caso Solo adesso Mi fa rita troppo sta roba C'è, a fianco allo stemmino Che hai, insomma, del mio canale Hai anche Un'immagine con un treno E appare sopra scritto Attuale capotreno Dell'hype train Oddio È verissimo Tu hai spinto tantissimo Per l'hype train Più volte D'oggi in poi Potrei davvero Rinominarti come capotreno Mi fa ride sta cosa Allora Io nel frattempo Proprio prima di iniziare la live Intanto faccio partire la scommessa Va Anche stavolta Tipo First try Ci proviamo Ci proviamo a non morire mai Sono Ozzy il capotrino Esatto Ciao Wolf Buonasera anche a te Riuso la stessa Dell'ultima volta Qui di Su Prey First try Su Talos One Sì O no Cinque minuti Allora Come potete vedere È stato inserito Come roba da riscattare Per quanto riguarda Prey La ricompensa Neuromod Praticamente un po' come quella Che ho messo in Daxos Quando Livellata al posto mio In questo caso Avete la possibilità Di scegliere Una Neuromod Da installare Quando vado a livellare No Potete sceglierne Una voi Quindi Con una non intendo Una Neuromod Cioè Lì puoi accumulare Più Neuromod Ma Una cosa da installare Può costare anche Quattro Neuromod E con voi potete scegliere Una di queste A prescindere dal costo che ha Ok Molto rischioso Molto rischioso Non so A che livello Cioè Non mi rendo conto Potrebbero essere rare Le Neuromod Ma non fa niente E anche per Farvi partecipare Alla serie Ecco Allora Non so se potete Pro o contro Sto staccando Al lavoro Adesso Adesso Tornando fra poco Oh ciao Zoro Buonasera Sono spariti i premi Con premi Intendi Quello che ho messo Di recente Tipo Multiplayer pack Intendi quello Ciao Tarma Comunque Buonasera Se intendi quello L'ho tolto Perché semplicemente Sono riscatto Già da Da Spectre E lunedì Si farà I Geof of Empire 2 Lo rimetterò Non appena finirà Faremo quella live Non posso accumularne Troppe Altrimenti Mi si incasinerebbe Tantissimo a me Esattamente La rimetterò Poi dopo Una volta fatta Loredì Martedì Con Daxos Tornerà Ok Perché altrimenti È un problema Perché qualcuno Di voi potrebbe Organizzarla Nella stessa giornata Perché magari Non c'è il venerdì O il mercoledì Tutti di lunedì Diventerebbe complesso Io non riuscirei mai A gestirmela Quindi è possibile Riscattarla Soltanto una volta Live E Una volta riscattata La tolgo Fino a quando Non si organizza E non si fa Esattamente Quella live Spero ti piacciono Le Barbie E il loro mondo Fantastico Ma i chocchi Li scelgo io Quindi Choc Sorin La lista dei giochi La metto io Tu puoi Poi pensare a Barbie Ma non ci sarà mai Nella lista Perché ricordo L'avevi scritto Anche la scorsa volta Allora sappiate Che se Io Dovessi morire male Chi ha votato Contro di me Vincerà un bel po' Allora Vediamo Quando sta la scommessa Ah no 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 Scusa Il contrario Il contrario Ho visto Perché era piccolino Adesso che ho ingrandito No È il contrario Allora First try Quindi Hanno votato Sì Wolfram Ryu Ok Simo Dopo la sconfitta Del drago Stava avvenatissimo Xorin Non l'accettava Avvenatissimo Ciao Afranix Buonasera Prima live Da abbonato Grazie Ozzy Eh Innanzitutto Son felice Che tu abbia commentato Che abbia ringraziato Proprio Ozzy Qui E vabbè Ozzy È stato incredibile Infatti Adesso è capotreno Come potete vedere È attuale capotreno Dell'hype train Cioè Mamma mia Ozzy C'ho un vuoto Incredibile Ma tu Non ci sei su XCOM Come personaggio Non ci sei mai Stato Non ci sei mai stato Io non ricordo Ozzy O a tuo botte Come personaggio Perché altrimenti Ti avrei nominato Come capotreno Avrei messo il soprannome Capotreno Se invece ci sei stato Sei morto Perdonami Per questa dimenticanza Non mi ricordo Non mi ricordo Il tuo personaggio No Non ci sono mai stato Ah Un peccato Stasera è live Stasera live Alle 21 Per la nuova espansione Di ESO Stasera Giochiamo Ma non in live Io Akatosh E E Ozzy Age of Empire 4 Ma Siccome uscirà Il trailer Per la nuova espansione La nuova espansione Di ESO Ce lo guarderemo Insieme Privatamente Giocheremo Un'oretta Così Age of Empire 4 Quel drogo Si era rincoglionito È uno dei boss Più forti del gioco È tipo Il Karstag Di Di Dark Souls Oppure Il guerriro Debano Io non ho mai affrontato il guerriro d'ebano in Skyrim Molto grave Enki si fermò a livello 56 57 Voi mi scriveste che Il guerriro d'ebano Appariva Tipo a livello 80 88 85 Una cosa del genere Mamma mia Neanche come autobot Ok Mamma mia Castag 81 81 Ciao Kessen Allora È finita qui la La cosa Si A posto Partiamo dai Eh poi Il guerriro d'ebano Non aveva se non sbaglio Una storia dietro Vero Lore Era soltanto Per il gusto di ammazzare Era soltanto gameplay Per il gusto di ammazzare Uno fortissimo Giusto Dubito ci fosse Qualcosa di interessante A livello di storia Di background Allora Andando faccio partire il gioco Un attimo Un attimo di pazienza Ciao Wessis Come sta andando Eso Io ho creato un orco No ancora Ancora devo Ancora devo giocarlo Devo Allora Devo sistemarmi Non so se Prossima settimana Ma fra due settimane Vedrò con Akatosh Perché lui sarà il mio Ecco Sarà quello che mi insegnerà A muovermi lì Perché Gli MMO Sono davvero Un ostacolo Troppo grosso Per me In genere Perché non mi salta qui l'intro Il pad è scollegato Quindi in teoria Ok Ok Si era un attimo Incantato Quindi dovrò Dovrò prendere lezioni Da Akatosh Perché lui è esperto E ci gioca Spesso Di Address Cross Online Una volta Insomma Capito un po' La logica Del gioco Faremo qualche live insieme O comunque Magari farò qualche video Su Anche per Youtube Ma Giusto così Velocemente Il Guero Demon L'ho fatto Con il Con il lupo mannaro Il signore dei vampiri Ed è facile Quelle trasformazioni Non l'ho mai affrontato Proprio in forma umana Wow Diciamo che sarebbe Il massimo livello Che potevi raggiungere Prima delle espansioni L'Embra E' uguale Wesis Era il mio stesso timore Ci gioco dalla beta Qualcosa conosco Dai No no Infatti Volevo dire Espertissimo Prima Però vabbè Mi sono limitato No 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 Tarma È in italiano Per questo Per questo Ho già fatto il personaggio E ci giocherò Figurati in inglese Se io sono una capra Non avrei capito L'80% del gioco Cioè io in inglese Potevo Avrei potuto giocarmelo Da solo Ai tempi di scuola Cioè con il dizionario in mano Con tutto il pomeriggio intero Anche la sera Anche la sera La notte Oggi non più Non potrei più farlo Purtroppo Non ho mai imparato La lingua inglese Come si deve Vabbè La si imparerà Per carità Però Adesso Ora come ora Non potrei mai stare qui A fare Video per voi Ecco Allora Prey Perché non mi appari Oh Eccoci Vai Dobbiamo andare Dal Dottor Calvino Infatti l'ho chiamata così La live E L'esperto Della tecnologia Riflesso Perché dobbiamo riparare Il nostro schermo Il nostro schermo Vabbè Praticamente Quello che è accaduto Allora Ufficiale Dottor Calvino Però prima di andare là Ho detto Di fare il giro Qui sotto Oddio Non volevo l'ora Di proseguire Sì sì Amatorialmente Sì sì Ho fatto un post To discord Magari scrivi Scrivi traduzione Ti usciranno I miei post E ho messo anche il link Poi quando ci farò il video Parlerò di questi ragazzi Cioè nel senso Vi linkerò tutto E Soprattutto Andrò a fare Una donazione Cioè io mi sento Sporco Nell'usare Un lavoro del genere Senza Supportarli Almeno un minimo Quindi andrò a fare subito Poi Una donazione Per sopportarli Allora Avevo tutto Cioè nel senso Ok Avevo tolto tutto quanto Dati Obiettivi anzi Un riflesso oscuro Alex ha disattivato i server Prima che potesse finire Di vedere il video January ritiene Che il dottor Lorenzo Calvino L'uomo che ha inventato La tecnologia di riflesso Conosca un modo Per ripristinare il file La sua officina Si trova nel laboratorio Hardware Non so perché ma La voce di Calvino Ah no L'abbiamo già ascoltata L'abbiamo già ascoltata Volevo fantasticare sul doppiatore Speravo tanto in un Dario Argento In stile In stile Death Space Che roba ripugnante Ma ve l'ho ricordato In Death Space Dario Argento Si Allora Quello È uno di quelli Che abbiamo marcato Uno ancora in vita E si trova In questo piano Sicurezza Perfetto Cerchiamo di andare lì Non ricordo Magari abbiamo visto Già ed era chiuso Non lo so Vedremo anche Tutta la zona sotto Tutto quanto No Oltre nessuno Lo sfero È una cosa simile Oddio È uno dei doppiaggi Che mi fece davvero Impazzire Cioè davvero Lo ho mai Livello 1 ragazzi Possiamo aprirla Oh Sì mi piace Vedete È servito È servito Ah ma c'è Allora C'è un minigioco Vabbè ovvio L'abilità hacking Ti permette di violare I sistemi di sicurezza Che proteggono Tasteri numerici Computer E stazioni di sicurezza A livelli di abilità Più elevati Puoi penetrare Nel sistema di torrette E operatori Per manomettere Il sistema usa Per spostarti Nel flusso dati Fino a raggiungere il bersaglio Una volta dentro il bersaglio Premi il comando indicato Per completare La procedura Ok Quindi devo andare lì Devo spostare sto coso Ragazzi Grazie per Uh ma sbatte tantissimo Grazie per l'abbonamento Poi vedo il ragazzo Che l'ha fatto Ok Dai 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 Ma posso rifarlo Sì Vabbè devo essere più veloce Devo capire un attimo il senso Mamma mia Se rimbalza Quello che mi fotterà In futuro Sarà sempre Il tasto da premere Allora per abbassare Adesso mi confonderò Sempre con Oblivion Come al solito Mi son pezzo Ancora una volta Il sottotitolo Allora Dovrò essere rapido Nel prende poi la pistola Ce n'è uno solo Spero Ma dov'è quell'uomo Com'è potuto sopravvivere Qui con quello spettro Molto veloce A spostarsi Ah è lì dentro Ok Porca puttana Non è morto Mi ha le spalle Ah no È un secondo Cazzo Via 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 Oddio Era Orca troia Ne erano due Devo stare molto Attento Ho rischiato Stava per saltare Il first try Dopo pochi minuti Circuito bruciato Che ti riparazione tuta Aspetta Non avevo un nome Erano due Shadow 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 Si è abbonato Eh beh Il tuo nickname Già Grazie Davvero Gentilissimo Addirittura Afranix Non mi ricordavo Sto dettaglio Attento Qua Ok La pistola ragazzi Già mi piace un mondo Perché è molto rapida È velocissima Ma Cioè I proiettili Santo cielo Vabbè secondo me Siamo a posto adesso Neuromod Ecco Allora Io vi ricordo ancora Che potete riscattare Praticamente la ricompensa Neuromod Ecco avete la possibilità Di scegliere uno tra questi Ovviamente bisogna avere il numero adeguato Di Neuromod Adesso con una Neuromod Io non posso sbloccare nulla Tranne che questo mi sa Tranne sollevamento Quindi qualora voi Riscattaste adesso La ricompensa Potreste fare solo questo Quindi non so fino a che punto vi convenga Anche perché questo sollevamento A me non piace affatto Però ecco è così che funziona Vabbè lasciamo perdere La mia priorità ora In realtà È questo Riparazione Potenziamento tuta Aumenta lo spazio nell'inventario Tanta roba Tanta roba Tanta roba Aumenta la resa del riciclo del 20% Questo è interessantissimo Da mettere subito Prima lo facciamo meglio sarà Secondo me E ovviamente Le arme Migliorare le arme Ufficio della sicurezza Ufficio della sicurezza Ufficio della sicurezza Ok ma quindi Quello lì forse No Scorte Deposito scorte Purtroppo è dentro il tizio Peccato Peccato Solo personalizzato Personalizzato Ah Praticamente Forse ci sbloccava Questa porta qua Possiamo Dipartimento Oh Attenzione A me questo mi piace molto Di questo gioco Devo ammetterlo Qua mi aspetto il peggio schifo Bene Perfetto Abbiamo sbloccato anche Questa porta Qui mi aspetto qualche Mimic Non qui però Madonna Un mimic Apreso C'è Fu Incredibile Questa non me l'aspettavo proprio In genere sono sempre oggetti Piccolissimi O forse era già caduto Ah niente Ha preso la forma di un carrello Ma proprio fottuto Ciao bandopando Sì mi sta piacendo anche A me Cioè a me piace sia il gameplay Sia l'atmosfera Quindi mi aspetto molto Spero tanto in una scrittura Come si deve E che non perda mai questa qualità Cioè per ora mi piace un mondo Quando cominceremo a scoprire davvero la verità Tra virgolette Perderà E non lo so Per ora mi sta piacendo Il fatto di essere da solo E non sapere niente Tutto sto mistero Anche E' meraviglioso Ottimo Ho fatto bene Stavolta ho fatto bene Dove Dove sei Santo Cielo Quanti ce ne sono qui Z Z E incomincia a diventare più tostarella Psicotronica Non vedo l'ora Vero Simo Un colpo al cuore Quella cosa di visceral Eh infatti parlavate di EA Ah ciao mercandero No questa Usa praticamente Tipo una colla Si chiama glue Cannone glue E E La cosa molto affascinante E' questa E che tu puoi creare Vabbè adesso l'ho messo in un punto sbagliato Qui ti attacca Si Che tu puoi creare anche dei passaggi Volendo Cioè puoi arrambicarti sopra questo E raggiungere magari Zone più alte Arrivare anche lì in cima E' davvero una figata Si Immobilizza il nemico Lo incolla per qualche secondo Ma possiamo anche potenziarle Le armi Quindi Diventerà sempre più devastante E più efficiente In futuro Allora Qui questo lato quindi abbiamo visto tutto Qui non possiamo andarci Psicotronica Questa Diciamo che è l'entrata principale Qua da dove siamo venuti Qui c'era un'altra porta Scansione bersaglio Security Qua è quello della sicurezza Giusto Potrebbe Eccolo Si Vai Ok questo è quello che vediamo da fuori Dove c'erano le torrette Dove c'è stava anche quella strage Sara E la zarra E infatti Il capo della sicurezza Amo letto diverse email Sara è stata anche dal dottor Kestrup L'interrogatoro Vi ricordate Allora Scada del personaggio Capitano spacca ossa No vabbè Questi stavano tipo Facendo un gioco di ruolo Questo è il personaggio Di Sara e la zarra Ehm E' un William ragazzi Forza 17 Costituzione 14 Intelligenza Scarsa 6 E' William E' il mio William Né più né meno Per farvi capire un po' Com'era anche l'atmosfera Quando tutto andava Come si deve Cioè si divertivano in questo modo Anche giocando tra di loro Sì assolutamente mercandero Poi specie quando puoi Davvero sfruttare l'ambiente Mi piace un mondo Infatti quella Premesso che sappiamo poco Io per il remake Chi da spesso Ho un po' paura Più che altro Per il team Che non neanche Abbia Fatto giochi memorabili Spada e balestra E' vero Hai ragione Bravo Zoro Per aver notato Notato questo E' cazzo Si è giusto avere Quella paura Comunque Quei timori Nils Il nome Per me E' impronunciabile Aiuto 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 Subito Elias Chiunque mi legga Aiuto Sono ancora Nils Non è uno scherzo E' questione di vita o di morte Aiutateci Subito Sono Nils Siamo chiusi nell'hangar Da tracco Rispondete E' urgente Aiuto Tastinino dell'ufficio Di Morgan Io Quindi noi Martin Giraud Metti in programma Un cambio di codice Periodico per il tastino Di Morgan Ricevamo richieste Di cambio di codice Ogni mese Sempre la stessa storia Morgan ci chiede Quale sia il codice attuale Chiede se è stato richiesto O se l'abbiamo scelto noi E poi ne richiede uno nuovo Non è normale L'ultima volta che l'ha chiesto Ero lì Sul posto Le ho ricordato il codice E mi ha guardato con sguardo vacuo L'avevamo cambiato Meno di settimana prima Forse vuole metterci la prova No Niente di tutto questo Purtroppo Mi hanno Formattato il cervello Più e più volte E' tutto qua Ok Oh si Kit balistico Per potenziare le armi Allora Noi abbiamo potenziato Per ora la pistola Facciamo il canone Ma quale will Ciao specter Dovresti avere dei nuovi chip La tuta E io non ci ho fatto caso Dov'è che si faceva Sono il tuo cielo Chip qua Chip tuta Bravo Bravo Meno male che tu stai attento Conferisce resistenza alle radiazioni Oddio questa cosa non mi tranquillizza affatto Le radiazioni Oddio Vabbè Stiamo nel giusto contesto Per imbatterci in qualche cosa di strano A parte no Magari abbiamo noi materiali Pericolosissimi Qua all'interno di Talos One Oddio Sì Quanto lo desideravo Abbiamo le munizioni E fucile a pompa Noi eh Oddio Che bello Il fucile a pompa Tattico Tron Infligge incendi danni A distanza ravvicinata L'efficacia cala drasticamente Con vessagli lontani Certo Vabbè Normale Adesso Quello che farò io Sarà sempre questo Immobilizzare con il clu E dare un colpo di fucile a pompa Avvicinandomi al nemico Orit Ragazzi Wow Ah Sara e Lazar Origini ebraiche L'Orit Praticamente è un insieme Di testi Ebraici C'è la Torah C'è il libro dei giudici Il libro di Gio Di Giosuè E qualcos'altro Che adesso non ricordo Un estratto evidenziato Dal canto di Deborah Vedete Nei sacchi testi Della casa d'Israele Giudici 526 Una mano Essa stese al picchetto E la destra Ha un martello da fabbri E colpì Sisara Lo percosse la testa Ne fracassò Ne trapassò La tempia Oicola Buonasera Grazie per l'abbonamento Grazie Come al solito Sei gentilissimo Top Cannon e glue È arrivato Spectre Addio Neuromod Perché Riscatta Tutto Comunque Questo passo In realtà Non è Deborah A usare questo chiodo E a dare la martellata Alla tempia Di Sisara Si chiama Jaele Una donna Eroina Possiamo dire così Abbastanza inquietante Della Bibbia Nessunno Sisara viene Praticamente Invitato Nella tenda E Mentre dorme Lei Gli spacca La testa Il fatto che Il fatto che Faccia comunque Riferimento Soltanto a questo Specifico Passo È inquietante Ho rinchiuso Demetri Come volevi Conosceva il codice Da porta Perciò L'ho cambiato In 1129 Quella Demetri C'è qualcuno Quindi lì dentro Scorta necessaria Alex Io a Sara Elazar E anche a Marco Simons So che avrete Parecchio da fare Ma dovreste Mandare una scorta Per Demetri Bowser È stato testimone Dell'incidente Ed è piuttosto Scosso Non siamo certi Del suo equilibrio Psicofisico Fate una valutazione Tratteneto a tempo Indeterminato Se necessario Discrezione Mi raccomando Alex Ok Ok Ci andrò Con fucile a pompa Ragazzi lì Oh no 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 che faccio Magari mi toccherà Stordirlo E non falire Come ho fatto La scorsa volta Elias Black A Sara Signora Come sa Il dottore Mi ha visitato Per i miei problemi Di insonnia Mi ha prescritto Delle medicine Ma continuo a vedere cose Dopo la partita Stavo dando una pulita A una sedia Si è spostata da sola Non sono pazzo Come lei sa chi Le scrivo Perché ho sentito qualcosa A muoversi nel condotto Nella zona della sicurezza Credo di aver visto Qualcosa di nero Dobbiamo approfondire Perché comincio a pensare Che sulla stazione Ci sia qualcosa Di cui non sappiamo nulla Ufficiale di sicurezza Elias Black Ilyushin Alex A Sara Aggiungi Micaela Ilyushin Alle persone Da tenere d'occhio Sta svolgendo Le sue mansioni Adeguatamente Ma la sua condizione La rende Un potenziale rischio Potrebbe servirci Del materiale Per farle pressione Il suo accesso Dovrebbe essere limitato Alle aree dedicate Al personale Non deve avvicinarsi I laboratori Inoltre Traccia eventuali Comunicazioni Tra lei E la dottressa Gallegos Di psicotronica I medici Sospettano Che soffa Di rumore bianco Perciò Il fatto Che abbia Falsificato La sua cartella Potrebbe bastare Di norma Suggerirà La rimozione Delle neuromod Ma la sua condizione Non la consente Tieni mi aggiornato Alex Quanta gente In difficoltà Molto pericolosa Anche per noi Chiave magnetica Smarita Sara Ho bisogno Che mi aiuti A rintracciare Una chiave magnetica Mettila in cima Alle tue priorità E' etichettata Come CE 101 In caso di sviluppi Fammi sapere Al più presto Alex Non è un qualcosa Che abbiamo visto ancora Vero Se avessi saputo Avrei potenziato Direttamente Il fucile a pompa Lo riscattatore Canon Si sta prendendo Sta prendendo molto Allora Vediamo Non so cosa aspettarmi 11 29 Potiamo anche Entrarci Ah no E' morto Però non mi fido Come sei riuscito A passare Maledetto Mamma mia Brutta fine Dichiarazione dell'ufficiale Bowser Signore Elaser Non so che cosa ho visto Ma stavo solo cercando Di fare il mio lavoro Ora temo che non avrò La possibilità di parlarle Quindi le scrivo Non sono uno che si spaventa Facilmente Ma quello che è successo In simulazione Non riesco a smettere Di pensarci Qualsiasi cosa sia Voglio dare una mano Non starmi seduto In questa stanza Sto cominciando a pensare Che qui sulla stazione Succedono cose poco chiare Ad esempio Cosa fanno veramente In psicotronica Nessuno di quelli che conosco Sa cosa succede Lì dentro Inoltre voglio che sappia Che Yurikimura Ha delle neuromod Non registrate Nel suo ufficio E a me interessa Particolarmente L'ufficio di questo Yurikimura Delle neuromod Plurale Quindi da Da due in su Cerchiamo di sgamarle Ah C'è anche la missione Ottimo Giardino botanico Ok No no Bravo Yurikimura Data test 6 11 29 29 Cioè A novembre 2029 Intendi Comunque si Lo iniziamo insieme E Adesso Adesso lo sto continuando Cioè Lo ricomincio da capo Noi arriviamo Fino a un certo punto Praticamente Se ti ricordi E quel punto L'abbiamo superato Quindi per me Adesso è totale blind run Ok Qui abbiamo preso tutto Drink Niente E sto messo anche male L'acqua quando ci ripristina Uno Ok no Stiamo bene Fino a domani Andiamo Ah un'altra cosa Che adesso farò È sistemare l'ordine Anche se io Non sono tanto bravo Con la tastiera Usare i pulsanti Infatti H2C trigger Malissimo Cerco di dare Un'ordine Migliore Metto al numero Due Il glue Pistola Tre Quattro fucile A pompa Cinque Questa E al nove Questo qui La granata MP Ok 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 Allora Possiamo salire sopra Possiamo andare avanti Proseguire Ufficio Yuri Però è da quella parte Terzo piano Allora saliamo sopra Vediamo un pochettino Come è fatta la mappa Eccolo qui Ci possiamo arrivare Ah sia con l'altra zona Dove siamo usciti prima Praticamente Con la porta Con la porta sbloccata Era le divisioni vendite Perfetto Oppure anche da questa parte Passando per cento Teleconferenze Giusto Si Ma facciamo così Poi tornerò Nell'ufficio nostro Per riciclare un po' di roba Prima rimaniamo su questo piano Facciamo tutto Prendiamo ogni materiale Tipo sta roba qua Poi torniamo al riciclatore Perché sto finendo lo spazio Ok Qua Calvino c'è Ciao Spectre Non so ancora Devo Devo Come detto L'altro giorno Devo Devo analizzarla Devo riguardarmela E fare dei tagli Dopodiché verrà caricata Probabilmente La prossima settimana Non questa Pezzi di ricambio 15 di 6 Però a che pro riparare questo? Questo è un riciclatore Il nostro ufficio sta qua No non voglio consumarli Certo Mi va di ripararlo Perché è una cosa Che non ho fatto mai Però dai Non spreco Sono tanti 6 pezzi Allora Andiamo di là Qua dovrebbe esserci Kimura Quello che si fotte Le neuromod Niente Prendiamo questi fiori Eh Me li aspettavo Mi aspettavo qualcuno Non ti conviene Oddio Oddio Non ti conviene A cosa facevi riferimento A non riparare A non riparare Pensavo al giro Che stavo per fare Ok A ripararlo Ok Ok Sì sì Sono d'accordo Sono troppe Dai Oddio Yurikimura Wow Tre colpi Ci sono voluti Tre colpi Però questa combo Mi piace molto È micidiale Bellissimo Il fucile a pombo Ragazzi Madonna È un'arma che in genere Amo In questi giochi qua Come un po' la Bioshock Mi piaceva E lì la stessa cosa Usavo il plasmide Per elettrificarli E poi PAM Botta di fucilazzo a pompa Diplomatico Ha fucilato in faccia No Grande Ah Che dettaglio No Ero troppo Preso Intenzione Bello Secondo me Test 6 Ragazzi Quando l'hanno annunciato Quando mostrano I teaser Sia di Test 6 Che Starfield Todd disse Che erano Entrambi In fase di No Entrambi no Forse soltanto Soltanto Test In fase di Preproduzione E in genere In quella fase lì Si è davvero Agli inizi 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 E Dardo Dardo Flexi E Quindi Ai tempi di Skyrim Mi sembra Mi sembra Un po' Troppo Ovvio Che quando Finiscono Un gioco Possono Pensare A cosa Potrebbe Accadere In futuro Ma Da lì A lavorare Ce ne Passa Anche perché Dovano fare Fallotto Quattro E Todd aveva in testa Starfield Di un nuovo gioco Da tantissimo tempo Quindi Allora Transtar Life In questa edizione Nella rubrica Astronascente Parleremo di Arley Gringer Un membro Della squadra vendita Neuromod Attualmente a distanza Su Talos Alcuni di voi Si ricorderanno di Arley Dai giorni in cui Militava nel baseball Professionistico Nel numero 66 Dei Tornados Nel ruolo di seconda base Arley è stato assegnato A Talos One Due anni fa E ha affrontato il viaggio Per la stazione Più di 50 volte Non male E per uno che ha paura Di volare Il mio amore per il baseball Mi ha spinto Ad affrontare le mie paure Ha affermato Che ci crediate o no Un viaggio in sciatto Su Talos One È molto più Comfortevole Di un volo nazionale Alcuni ne fanno sicuramente Bella pubblicità A Talos One Ma dovevano permetterso Dopo tutto Russi e Stati Uniti Insieme Nel fare Questo Tutto questo Comunque ci siamo Porca Mottana Perché Il futta pompa Non ce lo spreco Alcolizziamoci E sto consumando Troppe scorte Troppe Sappiamo come si installano Questo l'abbiamo già letto Balestra ragazzi Come gazzo Però non è giocattolo Lancia d'ardi predatore Il lancia d'ardi predatore Spara d'ardi di schiuma plastica Che non infliggono danni Può essere usato Per importare i colleghi Fa scattare le trappole A distanza Distrarre i nemici O interagire con schermi E pulsanti Madonna Bella trovata questa Bella trovata Eh Chissà quante volte Lo userò però Vediamo Vediamo Però mi immagino Già Vi ricordate Il primo Spettro Incontrato Quando ci dava il gioco La possibilità Di passare Attraverso la porta principale Attraverso il condotto Lì c'era Quella zona Cioè noi non potevamo Entrare dentro Nella stanza Dello spettro Ma c'era il vetro Che era possibile rompere Da quel punto Noi magari Potevamo usare Questo E sbloccare C'era una porta Visibile però Ecco Per farvi capire Potrebbe essere usato In quel modo Per sbloccare Le porte Dall'interno Magari Da un'altra angolazione Bellissimo No Test online Non lo contare Test online Non lo fa Zenimax online Vabbè Sicuramente C'è stato Il team Di Bethesda Main Che ha collaborato Anche per Semplicemente Per la loro Per Altre cose Ma loro Erano comunque Concentrati Su altro Test online Da è poco Secondo me Ha Ha Influito Diciamo Se star Feeder non Ritardi Si inizierà A parlarne A forse 2025 Magari Sanno situazioni In cui dovrei usarlo L'ho sempre trovata Inutile St'arma A parte Per i pulsanti Di 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 Tess6 Se ne parlerà Prima Soltanto Se la community Scasserà le palle In maniera importante Come stava avvenendo Infatti Per me È sempre stato così Cioè Todd Lì In quel periodo Stava esasperato Mostrò quel tese Soltanto per dire Lo stiamo facendo tranquilli Soltanto per quello Non l'avrebbe Mai annunciato Altrimenti Perché si stava arrivando Davvero a un Al limite Tutti aspettavano Sempre da loro Quello Tess6 E basta Quattro ragazzi Questo se ne è Fottute quattro Penso che non dovremmo Preoccuparci troppo Degli effetti collaterali Da quello che ho capito È solo una punturina Nell'occhio No Certo È un po' inquietante Ma se riusciamo Ad attirare L'attenzione del pubblico Verso gli allettanti Effetti positivi Delle neuromod Non ci vaderanno Più di tanto Non mi preoccuperei Neanche della questione Dell'arrossamento Non credo che una persona Qualunque che non lavora Nella nostra compagnia Possa permettersi Di utilizzare così tante Neuromod Non ai prezzi attuali Almeno Sì mi aspetto Un po' come C'è una roba del genere Effettivamente Al grande pubblico Costerebbe un botto Mi viene in mente Jurassic Park Ragazzi Il parco Soltanto per i ricchi Poi non era così Poi Hammond In realtà Aveva altre idee Cioè Oddio Ricordate lo scambio Di battute agli inizi Quando c'era anche io A Marco E tutti quanti Mi preoccupano invece Tutti quei rapporti Che parlano di perdite Di memoria Durante il processo Di rimozione Delle neuromod Voglio dire Amnesia Sul serio Siamo in grado Di programmare Il cervello Di una persona Darle ogni genere Di abilità Ma se uno decide Di rinunciare Alla roba Che ha voluto Nella sua testa O vuole rimuoverla Non riusciamo A evitare Che la sua memoria Si azzere Fino al momento In cui è stata installata Se questo Dovesse trapelare StrongCrab Le vendite Delle neuromod Non importa Se ci vogliono Una strumentazione E un addestramento Specifici Per rimuoverne una Nessuno vuole rischiare Di perdere Anni di vita Per parlare Un po' di francese Quanto vero Questo effetto Collaterale Non dovrà essere Menzionato Nemmeno Nelle clausole Scritte In piccolo I clienti Dovranno considerarli Neuromod Permanenti Porca puttana Ah Ok Esportazioni Alias Black Non puoi spedirla A casa Qualcuno L'ha già notato In cambio Di un mese di paga Non si verrà a sapere Mamma mia Un mese di paga E questi non percepiscono Poco ragazzi Questi avranno Uno stipendio Della madonna Qua sotto Allo su One Xorin Xorin Arriva Soltanto per stroncare Sempre di più Tessesei Despretende Quando sente parlare Di lord particolare Tipo roba Attilente a Morrowind Metafisica Arriva Sì Si avvertite Questa potenza No Questo tremito Nella forza Conta però Che sono passati Più di dieci anni Da Skyrim Se ci penso Madonna santa Ecco Ecco Exo Ecco Oz Esatto 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 Bannis Bannis A distanza De la spada Da spada Da spada Dopo tutti Quegli anni Però Davvero Quando lo mostrarono Disse subito Quello Io Subito Questo Ragazzi L'hanno fatto Perché non ne potevano più Mi ricordo che Scrisse in privato A Xorin Perché Xorin Mi rincò Il trailer Fu gentilissimo Carinissimo Però l'avevo già visto Ovviamente in diretta Allora Oh Interessante Lì non ci arriveremmo mai Vero Però da qua Sì Ma che provarlo Allora Adesso io devo tornare Devo tornare Nel mio ufficio Allora Potrei far saltare La scommessa Per sta vacata Ragazzi Ma che tentazione Madonna Ragazzi Lo faccio Non solo Per arrivare Dall'altra parte Lo faccio Perché potrebbe Eserci qualcosa Qui sopra Salva Salva Sì Salva Sì Ma io Tremo Per la scommessa E muo Ok Non posso arrivare Nel mio ufficio Però Posso andare lì sotto Mi farò male Vabbè io ci provo a saltare E qui non c'è altro Vero È stato un rischio Abbastanza inutile Ah ma il cavolo Ma è la madonna Certo che io rompo tutto Cioè Incredibile Perfetto Ciarpame Ho qualche doppione No Dobbiamo Ragazzi Ampliare l'inventario La nostra tuta Fa schifo Così Lo facciamo adesso Tanto voi Non l'avete riscattato Allora Neuromod Allora Giusto Nessuno ha riscattato Vero Andrami poi a verificare No Lo sto vedendo io No Fid attività Non vedo niente Ok Sono d'accordissimo Con te Texav Ormai è il mio Balouard Quello che dico sempre Secondo me Anche se qui Riciclo Madonna Se mi piace 3 più 2 5 Sì facciamo entrambe Sì Perfetto Grazie Andrè Per mettere un gioco E l'altro Di questa portata Devono passare Almeno sempre Tre anni Quindi se 2025 A questo punto Allora Perfetto Poi Poi si incomincia Poi andrò in crisi Tra riparazione E potenziamento Delle armi Tipo questo Armi da fuoco E questo Armaiolo Permette L'uso dei kit Balistici Per migliorare Le armi di sicurezza All'ulti livello 1 Perché per ora Possiamo fare solo Livello 1 Che è un po' triste Sapete una cosa Ma sta roba qui Non la stiamo usando Perché non abbiamo Non abbiamo Questo potenziale Psichico Per ora Quindi Siccome mi occupa Spazio Mi sa che vi dico Lo lascio qua Nella mia cassaforte Magari un giorno Mi servirà Ma adesso Ora come ora No Ok Eh ragione Simo È ragione Però Davvero Io ho da morire Nei giochi Quando mi si riempie L'inventario Ah Non ho idea Ne voglio una casa Di questo Ne voglio davvero Una casa Eh Però Sto materiale È Davvero Raro 3 Vabbè Me ne faccio Mi faccio bastare questo Ok Andiamo Scansione Bersaglio Materiale Typhoon Qualcuno qui Ha barricato forte Quindi Nell'officina di Calvino Mi aspetto Morte Parecchi disordini Ah si cambia proprio Zone E effettivamente È successa la stessa cosa Quando abbiamo raggiunto Qui la L'home L'atrio Non so come si chiama Non mi ricordo Si va da Calvino Quali sono Neuromod disponibili Ah Icola scusa Adesso te lo faccio vedere Magari Sì Perché Dovete farvi un'idea Hai ragione Hai ragione Io devo Pescono sempre Che voi L'abbiate giocato No Però non è vero mai Allora Neuromod scienza Ci sono Necropsia Che In realtà Ci serve Perché ogni volta Che ammazziamo Un mimic Uno spettro Ci troppa Praticamente Dele Dei resti Che Ora Come ora Non possiamo Prendere Perché abbiamo Bisogno Di essere Di avere Questa capacità Gli organi Typhoon Possono essere Riciclati Per ottenere Materiale Esotico Ecco Quindi è interessante Poi Metabolismo Raddoppi Raddoppi La durata Durata Del bonus Sazietà E la salute Ottenuta Consumando Cibo Medico Due L'autoconoscenza Della medicina Aumenta Del 300% L'efficacia Dei kit Medici Ottimo Hacking Due Vabbè Hacking Due Hacking Tre Hacking Quattro Vabbè Le varie porte Di livello Superiore Allora Qui c'è il sollevamento Che ora come ora Non mi interessa affatto Possiamo sollevare Gli oggetti Di un certo peso Di livello Uno Di livello Due Di livello Tre Poi Armaiolo Permette l'uso Di kit balistici Per migliorare Le armi Di sicurezza Prima ne abbiamo usato Uno Ora come ora Possiamo livellare Le armi Sottendo a livello Uno Questo ci sblocca Praticamente Quello successivo È interessante Importantissimo Santo cielo Riparazione Quindi ripara Torrette Operatori Giunti Elettrici Rotti Usando pezzi Di ricambio Maggiore efficacia Nell'uso Dei pezzi Di ricambio Eh Tanta roba Anche questo Oppure Andare avanti Col potenzione Della tuta Aumenta l'inventario Anche Aggiunge i chip Stessa cosa qui Smantellamento Scompone L'equipaggiamento Del tuo inventario Per ottenere Pezzi di ricambio E recupera Pezzi di ricambio Da operatori distrutti Interessante Tecnico In laboratorio Permette l'uso Di kit balistici Per migliorare Le armi tecnologiche Non standard Oltre livello 1 Armi tecnologiche Quindi come la pistola Cosiamo per stordire È diversa Quella o altre armi Che adesso non conosco Impatto calibrato Reduce il costo In vigore Degli attacchi Con la chiave inglese Ah cavoli Visto che lo uso tanto Poi si va a darmi Da fuoco Ovviamente i danni E la probabilità Di critico La salute Aspettativa di vita Aumentata di 25 anni Di 50 anni Di 75 anni Madonna Aumenta il vigore Qui La velocità E mi consente Di muovermi più Furtivamente Scattare più velocemente Del 25% Focus combattivo Entri in uno stato Di focus combattivo Per 10 secondi Il tempo rallenta Intorno a te E l'azione costa 250% di vigore Ok Ok Furtività ovviamente Cammina e corri Senza fare rumore Scatta senza fare rumore Addirittura E attacco furtivo Infliggi 200% di danni Contro nemici Ignali della tua presenza Anche sta roba È tanta roba Ecco fatto Perfetto Piccola riflessione Questo libro Che hai letto Fa sempre più pensare A un collegamento Con Bioshock I plasmini sono buoni Le neurobote sono il bene Nessuno deve pensare Il contrario Armi tecnologiche Cannone e glue E pistola studente Però Ah ok Ah figura di cola È stato Cioè È giustissimo Anzi grazie a te Oh L'ho marcato È una macchina Corrotta Macchina Corrotta Che mi preparo Con questo Merdo Fuori portata Questa si vuote Vero Immaginavo Madonna Che posto gigante Sendo uno spettro Cavino Non c'è Distante Siamo quasi arrivati Allora Non Non sono tranquillo Finché non abbatti i nemici Non c'è niente da fare C'è un mimico In fondo E c'è una neuromod lì Allora Prima di No 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 Ammazziamolo subito Qua ho bisogno di questo Però Questo sangue Non mi piace Impronte Oh Comunque Comunque Mi fottono sempre Pensavo Se ne fosse andato giù In fondo Tipo cinema Però Assistevano A qualche Esperimento Magari Mamma mia Quanto alcol E queste impronte Che successo Che è successo? Che è successo? Porca troia Ma avete visto però A parte è bellissimo quello che ha fatto lui Ha tentato di nascondersi lì Ha tentato di fare snake Ma ha fallito miseramente Ma questo è un modo molto intelligente Secondo me di farti capire Questa meccanica di gioco Certo noi Il cannone di glu l'abbiamo preso da un pezzo Se l'avessero messo prima Sto coso sarebbe stato molto molto bello Ti farai impazzire l'aggiornamento Non vedo l'ora Avevo paura che te lo perdessi A danni comunque si è messo bene Sembra 78 In realtà non è proprio Ma noi non possiamo bere Quella roba che abbiamo preso da qui No Andiamo su Ah ripristino un punto Cura la paura L'alcol cura la paura Ma non ci ripristina niente C'è poco Guardate quanto è grosso l'inventario Adesso si Bellissimo L'integrità tutta 25 Usiamo la Perfetto Ok Eh si potevo perdermelo Effettivamente Eh sono alcolizzato Vedete Vedo male Quella valigetta mi piace molto Però è signor Clive Berker Non tanto Ah lì c'è un passaggio Allora le patatine Me le prendo E me le mangio pure Anzi Quanto stavo però Un po' se lo spiegate Borbon Eh il Red Dead Quanto ne ho bevuto Di queste Allora prima di passare Lì sotto Esploriamo per bene Di qua C'è sempre una sicurezza In ogni area In ogni zona C'è Vicino ad ogni entrata Uscita C'è sempre la sicurezza Giustamente Mi sembra intelligente Come cosa Madonna Ma questi rumori Sono dovuti A una creatura Enorme Oppure perché Dopo l'esplosione Che c'è stata Oh qui si passa Ottimo Insomma è tutto instabile Forse l'esplosione Vi ricordate Quando è esploso Tutto agli inizi Munizione pistola Già l'avevamo Avevamo Mappa dell'area Ecco Entrare in queste Stazioni di sicurezza È essenziale Per sbloccare Le mappe Non ci stavo pensando Allora A livello 2 Abbiamo il riciclatore E l'assemblatore Officina meccanica Calvino si trova A livello 1 Lo stesso livello nostro Attuale Ok Ci basterà fare Questo giro Palco dimostrativo C'è no Questo giro Passare dall'atrio Però qui Sappiamo Che c'è quella botola Magari ci porta Direttamente qui al palco Oppure all'atrio Ah Intendevi danni Che facevi i nemici Scusami Ciao Wesis Buona serata Grazie per esserci stato Comunque Mi è fatto però Franix Cioè nel senso Mi ha fatto ripristinare la tuta È stato un bene Comando della sicurezza Sblocca deposito di sicurezza Quello Sì E io non ci ho Neanche fatto caso Ok Oh Sì Beh il gioco Non è avaro Ti dà un bel po' di cose Cioè Continuamente Evolvi il tuo personaggio Le armi Mi piace Non ti annoia sta cosa Fucilazzo Fucilazzo a pompa Vedete adesso siamo Vincolati Al primo livello Passiamo a 45 Assolutamente Sì Il prossimo sarà Quantità di munizioni Perché 4 sono poche Andremo a 5 Non tantissimo Ma Sì Allora Allora cosa abbiamo sbloccato Qui Oh madonna Mettiamolo a qua Perché io non mi fido Né dalla parte sinistra Con Clive Anche se Quel vetro Era indistruttibile Sicuro Mettiamola così Però Schiera Scansione pronta Ma qui non c'è niente Ah no no C'è un passaggio Che succede ragazzi Sendo dei rumori Inquietanti Ah ma forse il rumore Viene da qua sopra Cosa succede No Non ti incastrare Sì Viene da qua sopra Eccolo Ti ho sgamato eh Non questa La pistola Attacco furtivo Intanto Gli ho fatto Qui col cannone Glusi Potrebbero fare Grandi cose Proprio è che Devo andare incontro E dalla distanza Ovviamente il danno È quello che è Si è scappato Non sei morto C'è qualcun altro Qui in basso Dai 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 Torretta Aiutami per favore Non apre la porta Non è come Non è intelligente Quando un veloci Raptor Forse perché Si è girata Quella porta Vediamo C'è anche qui Le pietane Forse sì Mi si è chiusa Oh devo sbloccarla io No Ok niente L'atrio dei laboratori È chiuso Potresti cercare La chiave magnetica Ma probabilmente Ci sono altre vie D'accesso E tu sei sempre Stata brava A improvvisare Sono curiosa Di vedere cosa farai Credo di saperlo Ma vedremo Ditemi che me lo fa Vedere da qui Brutta morte Ragazzi È chiusa la porta Una delle fine più Brutte Che si possano fare Mamma mia Mamma mia Questo C'è Allora il fatto è questo Il gioco Per come è fatto Per come è fatto fuori La struttura Sempre esplorabile Ragazzi Sembra esplorabile Non lo voglio sapere Non lo voglio sapere Ma sembra esplorabile C'è quello lì Potrebbe avere un nome Anche se non me lo marca Forse perché è troppo distante E forse perché c'è il vetro Vediamo Comunque a me sta roba Mi piace da morire Ma come nella realtà Ragazzi Cioè non so se Vi è mai capitato Quando di notte Ce l'ho stellato Di vedere E così le stelle Eccetera Di osservare anche Semplicemente una lucina Che si muove Che è la lucina Di un aereo Cioè se tu la fissi A me fa pensare Un sacco di cose Davvero rifletti Sull'universo Mi piace da morire Fissare quel punto Quella luce Troppo ambizioso 2 La commercializzazione Del programma spaziale Di Edward J.V. Edward E il mandato di Johnson Arrivò a suo termine Spianando la strada Al presidente Reagan Io Ecco nella live Che fece I tempi Quella che Menzionava prima Icola Parlai di Reagan Reagan era molto associato Tantissimo associato Agli alieni Molto Perché una volta In una Un discorso che fece Li menzionò Che l'America Ma così come gli altri Le grandi potenze Dovevano essere pronte A tutto Ad un eventuale Attacco alieno Quindi mi aspettavo Più lui Come presidente Attuale Poi abbiamo scoperto Kennedy Però vabbè Ancora una volta La corsa allo spazio Mostrava segni di affaticamento La spinta decisa Dei decenni precedenti Stava svanendo Per via Dei mancati progressi Attesi in vano L'economia Dell'Unione Sovietica Era andata vicino Al collasso Per via Di un investimento Troppo ottimistico Nel programma spaziale Molti a Washington E nel Pentagono Reputavano In popol Reputavano impopolare L'idea di investire Nella corsa allo spazio Santo cielo E prese piede Una nuova corrente politica Di cui facevano parte Molti esponenti Che contribuivano A evitare l'intervento Gli Stati Uniti in Vietnam Che dava priorità Alla risoluzione Di problemi interni Ah sì Purtroppo sì A me mi fa incazzare Piangere al tempo stesso Sta roba Se avessimo sfruttato Davvero Qualsiasi risorsa Tutti insieme Ecco per fare anche questo Per terraformare i pianeti Per me Cioè Saremmo Avanti di brutto Non dico tipo Cittadella di Mass Effect Per carità di Dio Però cioè Mamma mia Che fessi che sia Tra l'altro Prima facciamo il discorso Su Starfield E che ci vedevo Moltissimo Questo in Starfield Un gioco Sulla terraformazione Dei pianeti Nel nostro sistema solare Cioè quindi Non vedevo I Starfield Agli inizi Un futuro Tanto avanzato Oppure Cioè molto vicino Alla scienza Nostra attuale Che poi in realtà È stato confermato Però mi vedevo Mi vedevo Cioè nel protagonista Vedevo tanto questo Questo aspetto anche La scoperta La terraformazione Dei pianeti Conosciuti Ecco Quindi non tanto Come si dice Uno Skyrim Nello spazio Quindi con tante forme Aliene Diverse Razze diverse No Allora L'hanno buttuto fuori Stile Among Us Oliver Sam Chissà perché Quando si parla di alieni Si pensa sempre Che debbono essere ostili Eh vabbè Ma poi in quegli anni Cola Con i vari film Che c'erano Prendi Ma perché Mi dimentico sempre Il titolo di quel film Quando l'ho visto Decine di volte Andrea a te ti piace molto Quello con Tom Cruise Di Spielberg Ovviamente Spielberg Ha rifatto Il film Ma Porca troia Non ricordo La guerra dei mondi Esatto La guerra dei mondi Originale Tutto Il coinvolgimento Che fu A parte ne parlammo Anche per via Di PT The Stranding In PT C'era Proprio la La registrazione Radio Che viene trasmessa Proprio per pubblicità Pubblicizzare il film Cioè Venne Trasmessa Su una radio Locale Un audio Mostruoso Cioè Si parlava Cioè C'erano dei giornalisti Che parlavano Di un attacco alieno Erano serissimi E lì L'umanità Ci credette L'umanità Comunque Chi era in ascolto Ci credette Ci fu il panico Fu incredibile Mossa Pubblicità La marketing Clamorosa La migliore in assoluto Per me Quindi In quei periodi là Era così Cioè I film hanno fatto Un massacro I romanzi Tutto questo potrebbe cambiare In una rara intervista Ok Il presidente Della Trans Alex Yu Rivela la sua visione Di un pianeta Marte Dove famiglie In maniche corte Fanno picnic Su prati erbuosi E dopo il tramondo Cercano in cielo Il puntino luminoso Della terra Per rendere questa visione Una realtà Bisognerebbe dare il via Alla terraformazione Di Marte La sfida ingegneristica Più grande Che l'umanità Abbia mai affrontato Yu Mi mostra Una specie di muschio Grigio Apparentemente Normalissimo Un organismo Estremofilo Progettato specificamente A questo scopo Questa pianta Dal nome di Takakia Katerin È un organismo Sorprendentemente Efficiente Che nel giro di qualche secolo Trasformerà L'atmosfera marziana Rendendola molto simile Alla nostra Sogno Ciao Wolfrain Cazzo non l'ho letto Ciao Wolfrain Grazie Eh sì Esatto Wells Allora Ragazzi a me piace Giocarmelo così Questo gioco Sono lentissimo A parte lo sono sempre In ogni gioco Lento Però ecco Mi piace Riflettere Anche su Altre cose Se la mia unica speranza Nicky Tanner A Hope Hillis Ehi Ho mandato l'assen A prendere una bottiglia Di Old Sardar Nella sala dimostrativa Ti unisce a noi Dimostrazione rimandata Franklin Good Hope La dimostrazione Di sistema di propulsione Artax Deve essere rimandata C'è una piccola C'è un piccolo problema Di calibrazione Ci stiamo lavorando Nell'officina meccanica Niente di preoccupante Franklin Siamo vicino All'officina meccanica Sto tè Non lo prendo Ora Chiave inglese Che ricicleremo Jorgen Tomstein Il direttore Peccato Non ho livello 2 Questa musica è perfetta È perfetta Allora Abbiamo Passaggio superiore Passaggio inferiore Io Però ho notato lo spettro Ed era tutto carico E passa la barra Vado sopra ragazzi Non voglio fare il codardo Anche da morti Non finirà Tu eri quello ferito Ora magari ho visto male No no Ci sei C'è qualcosa lì O no Ah Era il fumo Della torretta Era il fumo Della torretta Anche perché Lo sentiremmo E due munizioni Fucilazzo a pompa Ragazzi Ragazzi La pistola la amo Tito Scromwell Questo non ricordo Di No Non dovrei conoscerlo Nessuno sa niente Nulla di nulla A parte forse i genitori di Yu I miei genitori Cioè parlo di quello che sta accadendo Magari ecco il presidente Pochi altri ma non credo Andrei ciao Andrei ciao vabbè Grazie Andrei Grazie Andrei Cinque minuti per finire la live Memorizza la password E distruggi questa nota Tramite un operatore tecnico Macro 11 Eh non l'ha distrutta Potiamo comunque Vai Hai vinto A chi ha dotato Il caro mister glue Mac glue Di un paio di braccia Ovvero il primo turno I miei più sentiti omaggi Pensavo che il cappello di anguilla In gelatina Non avesse rivali Ma devo ricredermi Questi magnifici guandoni da baseball Sono ineguagliabili Con affetto l'indegno Secondo turno Che belle st'email Se vi servono materiali Clive Lawrence Al gruppo Betest Minori Ciao Se vi servono materiali Dall'officina meccanica Il codice per accedere Allo scompartimento 35 09 Se prendete qualcosa Fatemelo sapere Clive Jorgen Thorstein Il direttore Preparazione del campione Qua roba tecnica Poi il funzionamento Del glue Va bene Ah ma lui è mister glue Hanno fatto tipo un pazzo di neve Con la colla glue Che poi la colla Glue così Non si chiamava anche Il potere che aveva Puttaneva Non ricordo In Dragon Ball 1 Nel primo torneo Goku affronta Giran Giran Ovviamente Nel cartone animato Il cartone animato Nel manga Magari avrà un nome diverso Affronta Giran Che è una mezza specie Di drago volante Viola Che usa come potere Come mossa Questa colla Che sputa dalla bocca E tanto qui c'è Mimic Qui in giro Che immobilizza Tantissimo L'avversario Tra cui Goku E mi sembra Si chiama Ah no O colla Guruguru Forse si chiama Io ti odio A te Io ti odio Ok No non volevo Sono stanca Sono stanca Ma posso Fammi fregare Da questi Vitrofobico Cosa significa Akatos Mi sembra Ci fosse Una nota Dietro il pupazzo Adesso vado Che significa Che significa E' un peccato Rompere Se tv Ho mai vista Io ho visto Visitors Fanboy Di Di D'X-Files Ovviamente Madonna X-Files Madonna X-Files Che roba Che è per me Nel futuro Sei diventato Un alcolico Giustamente In mancanza di neve Che non si Ah ok Che non si applica Ai vetri Volevo Cioè C'ero quasi arrivato Ma ok Quindi Grazie caro Bravo Ciao Mi chiamo Mister Maglue Bellissimo A posto Allora Sono 7 e 28 Voglio arrivare Da Calvino Voglio Semplicemente Vederlo Quindi Qua No Non ci sono Stato Qui Taddeus York Occhi aperti Da Jorgen Taddeus Per favore Teni d'occhio Franklin Passa troppo tempo Sui progetti personali E a divertirsi Siamo tutti umani Lo capisco Ma temo che posso usare Il sistema di propulsione Per accedere a zone Non autorizzate Sistema di propulsione Gas Magil Taddeus York La sicurezza L'avete perso voi? Ehi sono Gas Dell'hangard di carico Ho trovato una cosa curiosa In un container Per le espedizioni Durante il mio turno Che lo sia il progetto Di una torretta automatica Per l'assemblatore Interessante Era insieme Un gruppo di vecchie celle Di condensazione Consigna all'impianto Di Phytas Phytas Come si dice in greco Magari è lì per sbaglio Non saprei Un ufficiale L'ho messo in una cassaforte Della stazione di sicurezza Del supporto vitale Se vi serve Parlate con lui Stazione di sicurezza Del supporto vitale Gas Pensaci tu Thornstein A Taddeus Taddeus Il dottor Calvino Non si sente abbastanza bene Per presentare L'ultima versione di riflesso I nostri ospiti Perciò non sarò in laboratorio Per qualche tempo Aia Organizzavo tutto In vista della mia assenza Ma ti invio il codice Del mio ufficio In caso di necessità 3366 Dottor Tom Quindi La porta sotto Ma necessitava di un codice Quello sotto O di una scheda Ah eccolo Eccolo 3366 Qualcosa mi Ah bisogna andare anche di là Allora Non ce la faccio mandare Da Calvino Qualcosa mi dice che Prepariamoci Prepariamoci Al peggio Fucilazzo a pompa A numero 4 Sgamato Spettro Hai mentito In quella mail Ci sei O è un altro Che giro fai? È lui È il direttore Secondo me Questi con i nomi Siamo tutti E perché faccio questo? Mi ha giusto troppo Niente Per me È un impedimento Credibile Credo sia il direttore Del laboratorio Sospetto che ti ammirasse Peccato Peccato Beh mi spiace Io non conosco il rapporto Che avevo Con nessuno Non ricordo niente Cabina di Jorgen Tornstein Tavola periodica Di elementi Oddio no Oddio no Indizio codice Cassaforte Ah 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 ES e XE Ci metterò un po' Allora XE trovato 54 ES Ad Elon Musk Piacerebbe Prey Prima ci stavo pensando A Elon Musk Quando leggevo Di Marte Poi mi sono dimenticato Di dirvelo Stavo pensando Proprio a lui Ah comunque Il mio consiglio È di potenziarti Il danno Delle armi Da No no Sì come ti ho detto Anche prima È una delle priorità Assolutamente Cioè Assolutamente Allora XE Comunque adesso troviamo Voi l'avete già visto Eh Eh no ES Devo trovare adesso io 99 Perfetto XE l'abbiamo già visto 99 54 Vabbè 99 54 Bella Sta cosa Progetto di assemblaggio Antiradiazione Granata riciclante No non ci credo Quando esplode La granata riciclante Stravolge la struttura Molecolare Degli oggetti Nelle vicinanze E li trasforma In materiale riciclabile La tua uniforme Garantisce un certo Grado di protezione Ma non è una prova di danno Ma non è una prova di danno Le granate riciclanti Possono essere lanciate E attaccate Ad altri oggetti immobili Usando Ma no Questo è meraviglioso Quindi in teoria Potrei aprirmi Anche delle strade Tipo Simo Akatos Che lo hanno giocato Sto pensando Agli ostacoli Che Quelle barriere Che venivano messe Davanti le porte Tipo del bagno O anche di alcune strutture Quelle di sollevamento 2-3 Tu gli tiri La granata riciclante E Boom Ed è fatta Questa ti apre Varie strade Vedi Queste sono magnifiche Esattamente Rende abbastanza Inutile Il sollevamento Ecco perché lo dicevi Risolto il problema Della spazzatura La cosa è troppo pesante Eh Ozzy Esatto Anche tu Ovviamente L'hai giocato Perfetto Perfetto Bellissimo Bellissimo Oh ma Hanno avuto delle idee Molto intelligenti Diverse Nuove Secondo me Allora Togliamoci Dalle mani Qua secondo me Madonna I colpi Però ho avuto Un riflesso Incredibile I colpi Qui Esatto 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 Perfetto Dobbiamo andare Di là Adesso E lo faremo Passando Semplicemente Abbiamo preso Tutto qui No No Questo L'abbiamo letto Il nuovo Replicatore Igwe Torna lui Dottor Thorstein Volevo scriverle personalmente Per ringraziare Del nuovo Replicatore So che la lista D'attesa è lunga E trovarne Un nuovo Di zecca Nel mio ufficio Questa mattina È stata una piacevole Sorpresa La gratitudine Che provo Mi rende difficile Chiederle un Altriere favore Tuttavia Se potesse Mandare uno Dei suoi ingegneri E illustrarmi L'uso Di questo oggetto Sarebbe una cosa Estremamente Gradita Grazie Clive Lawrence Una richiesta Di Morgan Di nuovo Oggi Era giù In hardware Se ne stava lì Come se non sapesse Dove andare E Quando mi sono Offerto di aiutare Ha chiesto Altre parti Di operatore Ho chiesto Se le ultime Che avevano mandato Non erano sufficienti E mi ha risposto Con uno sguardo vacuo Ancora Senso offesa Ma i pezzi Che Morgan ha preso Fino ad oggi Basterebbero A riparare Cinque volte Tutti gli operatori Della stazione E abbiamo Altri operatori Che necessitano Di manutenzione Clive Ebbè L'abbiamo visto Nel riflesso Insomma Morgan Cioè Quando ci ha Quando abbiamo parlato A noi stesse È Incredibile Noi siamo Davvero avanti A livello Di conoscenza In ambito scientifico Mostruose Quella cosa Che ha fatto Di genere L'intelligenza Quindi Forse per questo No Tutti Trasmettatore Nullwave Sviluppato in Psicotronica Il trasmettatore Nullwave Emette una raffica Di segnali Che inibiscono Le abilità psichiche Di chi viene colpito Per un breve periodo Di tempo Madonna Quanta roba Si sta aggiungendo Allora Non mi sorprende Hai trovato Un'altra via Ben fatto Molta tecnologia Della stazione Nasce qui Equipaggiamento Da laboratorio Componenti speciali Prototipi Dovremmo riuscire A riparare Il tuo terminale Riflesso Nell'officina Del dottor Calvino Si Qua Qua devo andare Tanta Bella roba A questo punto Ragazzi Non riusciamo Ad andare Da Calvino Purtroppo Lo faremo Nella prossima live Adesso Modifico Potenzio Col kit balistico Qualcosa Ogni tanto Escono Ste cose Della cucina Anche Nel nostro Appartamento C'erano Diverse Ricette C'erano Abbiamo riempito Tutto Quanto Mi disturba Sta cosa Quanto Mi disturba Aspetta Mangiamoci Ok Per il resto Lasciamo tutto qui Magari Ritorneremo In futuro Mettiamoci Semplicemente Qui Ok Allora Portate ad uno Di vita E lanciatene Un addosso Poi è tempo Perso Quindi adesso Lo facciamo adesso Poi uno di vita Come ci arrivo Devo farmi ferire Di brutto Vabbè Adesso salvo E lo facciamo E non conto Ovviamente Per la Per la scommessa A parte Forse L'avrà già pagata Visto che è 38 Kit balistico Allora Non possiamo più aumentare La potenza di fuoco Abbiamo detto questo Però Prossimo step 6 Va bene Questo ci dà il materiale Che ci occorre Per fare le munizioni Quindi Lo ricicleremo subito Il canone Doppio Qua Anche la chiave inglese Ottimo Abbiamo un bel po' di roba Stavolta da riciclare Allora Si salva E Qui sotto ho visto qualcuno Che ha vinto Non sono mai morto Quindi Ehm Ha vinto First try Si I si ha vinto Fammi male Fammi sentire ancora vivo Citando Grey fox 80 Quando ci metto a ammazzarmi Un po' bruttina la situazione qui Molto brutta Torno sopra Anche perché non voglio Spoerarmi il posto Un altro colpo Te lo consento Attenzione Segni vitali critici Dai 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 Va bene 10 secondo me vanno bene no? Andiamo da Thornstein Il mio amico Ah ma probabilmente 20 20 va bene? Ah vai sul fuoco Era un'idea giusta Basso di vita Ne abbiamo due di grande riciclanti Ok Esatto Lancio un altro Valore intrinseco Ho sbloccato l'obiettivo Nessun segno vitale La granata La granata EMP È un utile strumento Per disabilitare Tempormente Sistemi alimentati Come ad esempio Giunti elettrici E operatori Ostili Siamo stati Praticamente scomposti Siamo diventati materiale Va bene Va bene Non so se ho sbloccato due obiettivi Sinceramente Va bene così È fortissimo Anche sui Typhoon Infatti Infatti Se dovessero un giorno Essereci delle concentrazioni Di Typhoon La butterò lì in mezzo Ragazzi Madonna che bello Anche a vedere Il loro Cioè Cioè L'avessero scomporsi Magari non accade Magari non accade Semplicemente Gli abbassi Di brutto la vita Ma ad un nemico ferito Forse sì Allora Mettiamo la musica Sto a 5 minuti qui con voi E poi vi lascio Allora Ok Ringrazio nuovamente Nicola per l'abbonamento E Shadowmare E Shadowmare Vi ringrazio di cuore davvero Sembra molto gentili Per quanto riguarda Adesso Twitch Oggi è giovedì C'è stato Prey È stato molto molto bello Interessante Devo ammettere che più si va avanti È più Ha un certo fascino So di me Prossima live Ci sarà domenica Mattina alle 11 Con XCOM Si andrà avanti lì Non so Forse ci sarà Un'altra missione Con Le Recute Quelli che hanno combattuto meno Un po' come è successo La volta scorsa Invece Invece Per quanto riguarda YouTube Domani Conto di registrare Di iniziare una nuova serie Iniziare Shadow of the Colossus Remake Prossima settimana Si inizia Twitch Con Lunedì Con Age of Empire 2 Con la live Fatta Riscattata Da Dal buon Spectre Dovrebbe esserci Akatosh Ozzy al 100% E forse Mokash Quindi sarà una live Tra di noi Con loro Tramite Discord E in chat vocale Quindi sentirete anche le loro voci In Age of Empire 2 Spectre si divertirà A farci giocare Una delle sue mappe Un po' tremo Akatosh e Ozzy Un po' tremo Perché Spectre lo conoscete Potrebbe davvero Fare qualcosa di immenso E ingestibile Ce le fa belle Però No mi ha detto Che al massimo Dovrebbe durare Un'ora e mezza circa Alle 21.30 Ozzy Alle 21.30 Spectre prima non poteva Quindi alle 21.30 Allora Scusa ero in lurking E' un lurking E' tra loro uscirà l'espansione Lo so Akatosh lo sa molto bene Anche questa cosa qua Loro hanno sempre idee Fili di design Comunque Mamma mia Sì guarda Guarda Tutti gli altri giochi fatti Adesso io non conosco Deathloop Ma immagino anche lì Tante genialate A livello di I design Cioè Tutto Vabbè te lo ricordo Magari io Spero Dio anch'io C'ho una memoria abbastanza Per fare chiarezza Diffondere un po' Di cultura su Prey Il genere Del gioco Si chiama Immersive Sim Anche i disonori De lo sono E si ispira Principalmente Ai System Shock Sì sì Ok 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 quindi lunedì Ci sarà Age of Empire 2 Con i ragazzi Martedì Alle 18 invece Ci sarà Il solito Darksos Per poi Incominciare Come la settimana Giovedì Anche Prey Eccetera eccetera Prossima settimana Oltre Oddio Non so se riuscirò a fare Oblivion Il video di Oblivion Scorso Mi ha portato via Un tempo Allucinante Cioè Ci ho dovuto lavorare tantissimo Anche il prossimo video Sarà curato A livelli simili Perché sarà Un episodio importantissimo Poi dipende sempre Dall'ispirazione Se riuscirò A fare tutto quello Che avrò in mente A trovare le musiche Adeguate Dipenderà da tanti fattori Però sicuramente Prima settimana Non riuscirò Il prossimo video Uscirà almeno Fra due settimane È probabile Quindi Per quanto riguarda YouTube Forse uscirà La live di Scarim È fatta Quella che abbiamo fatto Di recente Anniversary Su YouTube Sul Games Channel E un altro episodio Magari di Shadow of the Glossus Quindi tipo Il secondo episodio Uscirà la prossima settimana Perché è il primo Conto di farlo uscire Entro questa Boh Fine Spero che ritornino I server Mamma mia System Shock Pure dovrebbe uscire Il remake Non vedo l'ora Non l'ho mai giocato Non l'ho mai giocato System Shock Mai Oddio Quanta roba Mi sono perso Ragazzi Vi auguro Buona serata Buon tutto Grazie per esserci stati Ci vediamo Quindi Qui su Twitch Domenica Invece su YouTube Magari anche prima Statemi bene Ciao Ciao